Buonasera, sono Laura Antichi, vi volevo presentare un'app dall'App Store iOS, disponibile quindi per iPhone e iPad, che si chiama My Talking Got Light. E vorrevo usarla in maniera originale per produrre realtà aumentata. Questa è l'interfaccia dell'applicazione. È un fumetto video aumentato interessante perché potrebbe essere uno stimolo divertente per catturare l'attenzione su un argomento. Ad esempio nel contesto di didattica aumentata potrebbe essere usata in diversi modi. Si potrebbe utilizzare per illustrare un ambiente, questo ambiente compare sullo sfondo e può essere anche mobile. Si potrebbe utilizzare per presentare un'opera d'arte, un edificio. Si potrebbe utilizzare per recensire un libro. L'app nasce in funzione del divertimento, ma per noi può essere una interessante proposta per la didattica. Alcuni suggerimenti. Il docente, per esempio, nel momento preparatorio di un'unità di lavoro, potrebbe lanciare uno stimolo per introdurre un nuovo argomento, innesco. Gli studenti nel momento laboratoriale in classe potrebbero presentare le loro ricerche con questa applicazione. Gli studenti in attività di outdoors potrebbero preparare presentazioni su ciò che stanno osservando. Gli studenti potrebbero presentare con questa applicazione se stessi. Naturalmente è un'applicazione che va utilizzata per dei flash brevi su delle realtà didattiche. Quindi è un'app che vedo di realtà aumentata. Si considera che c'è un personaggio che parla e spiega su uno sfondo rappresentativo di un'esperienza. Ecco, adesso vi mostro il tutto. Questa è l'app da scaricare. La troviamo qui nell'app store, come vi avevo detto prima. Vediamo ora come funziona l'app. Abbiamo a disposizione una serie di avatar che possiamo andare a modificare con modifica avatar. Come vedete posso modificare i colori, esempio potrei l'incarnato, la bocca, ho queste possibilità, la pettinatura. Posso modificare anche la pettinatura del personaggio. Vedete, ho la possibilità anche di ruotare il personaggio per vedere l'effetto. Posso naturalmente entrando, ho scelto un avatar femminile, modificare la maglietta. Tengo questa che mi piace, i pantaloni con poi calze e scarpe. Ci sono alcune funzionalità che sono a pagamento. Noi naturalmente sceglieremo quelli free. Clicchiamo su crea video e come potete vedere ho un personaggio. Ciao! Adesso registrerò. e la possibilità, se voi guardate allo sfondo, di girare attorno nell'ambiente circostante dove siete. Adesso, va bene, lo sto facendo per dimostrazione qui nel mio laboratorio. Però, avete la possibilità di rendere evidente una situazione d'esperienza sullo sfondo e di descriverla con questo personaggio aumentando la visione. Ecco, sia clicca sul tasto registra. Ecco, sono in registrazione ora per dimostrarvi come sia facile realizzare questa presentazione aumentata. Vedete, questo è il mio computer. potrei anche, non so, recensire un libro mostrando il contenuto. Ad esempio, prendiamo il libro La Vicarianza, potrei metterlo sullo sfondo. potrei anche sfogliarlo e parlare di, ad esempio, di che cosa significa la vicarianza e che cosa ci vuol dire a lei Bertozzi su questo concetto pedagogico importante. Ecco, vi ho mostrato allora l'applicazione e come funziona e spero che lo possiate usare nella didattica aumentando l'input e aumentando quindi l'esperienza che potete attivare all'interno della classe. Grazie. 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 Grazie a tutti